E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Stef, che si chiama venerdì 13 E torniamo con un altro episodio di venerdì 13 Sì, ma non sorridere Fere Perché quest'oggi devo giocare Jason Sono Cappuccetto, mi chiamerei Cappuccetto Jason Ok, è il mio nome E ti dico già che ho una sfida per te Ok, qual è questa sfida? Io non ti posso ammazzare fin quando non avrò ammazzato tutti gli altri giocatori Tu, in quel lasso di tempo dovrai trovare il modo di fuggire Altrimenti io verrò a prenderti E ti, diciamo, metterò a dormire per sempre Fere, quindi avrai, diciamo, metti due minuti Un minuto e tre No, ma magari ci metterò almeno cinque minutini Facciamo venti, dai Ma che venti Che finisce il tempo e mi salvo pure Niente che te ne accorgi In ogni caso sarà una bella sfida, vediamo chi vince 30 minuti a liveare partite Finalmente sono Jason E si può iniziare Io non so perché ci vengono queste idee Non lo so Concentriamoci Quindi ricordati come la sfida Hai il tempo di tutte le persone che devo trovare e ammazzare Prima di essere tu quella di essere ammazzata Quindi avrai più o meno, secondo me, dai 10-12 minuti all'incirca Ascolta, non mettermi tempo Lasciami in pace L'ho scelto di giocare, non mi stressare, grazie Allora, io non ho mai provato il cappuccetto Jason Però anche i Jason hanno diverse abilità Credo di correre un po' più veloce normalmente Con questo personaggio o qualcosa del genere In ogni caso Guardate che bella la mia arma Un bel piccone per stendere tutti Apriamo la mappa Io direi che in questa zona qualcuno c'è per forza Vediamo un po' Oh, yes Dove stendono? Allora, sono Guarda se senti il vetro Così non perdo tempo Sei tu? No, no, no Non sono io Non sono io, mi spiace Allora, ho trovato una signorina Mi scusi, mi scusi Devo perdere poco tempo Perché devo andare a caccia di Ferinichi Può uscire fuori? Le devo regalare dei biscotti Non ti ascolteranno mai, Stef Allora, sto cercando di vedere le possibili fuga Ok, ok Si sta già studiando un piano Allora, non sono troppo belle, sinceramente Non c'è la barca? No, non c'è la barca Io volevo provare la barca Invece non c'è Ci sono le due auto e la polizia Ovviamente, vabbè Aspetta, fare Fare Tommy, ma quella non è una fuga Pensavo fosse uscita la signorina Invece è ancora qui dentro Allora, cerchiamo di scoprire dove sta Speriamo che ti faccia perdere tanto tempo Così Guarda, solo a suonare le porte Ci metto sei ore ogni volta Sì, ma quello è ovvio Già lì perdo un sacco di tempo Dai, per favore Sto arrivando Come on Jason Ok Ti hai fatta? Ferin, mi ha provocato Come ti ha provocato? Sì, sì, sì È una signorina E mi ha fatto come on Jason Oh Eh, allora ti vuole sfidare Stef, devi accettare la sfida E la devi uccidere È scappata dopo aver fatto come on Jason Perché i miei sensi non la vedono più Però Credo ci sia ancora Non lo so Signorina Beh, sicuramente non si è volatilizzata Quindi da qualche parte Per forza Ho sentito qualcuno urlare Ma stai calma Ti hanno attaccato Stef Ma mi ha mancato Mi stava aspettando Capita, capita No, no, ma tu non hai capito Mi stava aspettando Dentro una stanza Con un flare E ti ha mancato E mi ha mancato Perché sono uscita dalla stanza Come puoi mancare In una stazione leggera Brava Entra lì che ti sei ferita Bravissima Sei super furba Sta mettendo una tropola Davanti alla porta Ti sta facendo guadagnare Un sacco di tempo Che sta qui Mi è già antipatica Però almeno mi sto divertendo Sono felice Che per una volta giocano bene E non combinano disastri Come sempre Eh, infatti Hai avuto fortuna Mi danno abbastanza tempo Di organizzare un pieno di fuga Ok, sono lì Perché io ho scoperto Che quando sono vicino Alle finestre Riesco facilmente A dargli un colpetto E spara E spara Sì, sì, sì Che ci riesci Dai, sparami Segnia il coraggio Dai Vieni qua Sparami Sparami Siete chiusi Non potete fare nulla Prima o poi Questa porta verrà sondata E quando verrà sondata Voi sarete in pericolo Proprio gigantesco Anche perché Uno l'ho ferito col coltellino L'altro si è ferito da solo Ok Lanciandosi dalla finestra E quindi non potranno correre Neanche troppo Buona sapesti E spara Guarda Fere Guarda il mio schermo un attimo Mi sta minacciando Con la pistola da due ore Lì c'è la trappola Che faccio così E la schivo Ok Perfetto Sono spaventatissima E vabbè Questa volta è ovvio Che ti prende Ok Ok E ti ho anche visto Perché avete fatto Parecchio chiasso Uuuuh Ha sfiorato la trappola Secondo me Ha rischiato tantissimo Una appena entrata di qui Quindi iniziamo a sondare Un pochettino tutte le finestre Ma come sta andando La tua fuga Fere Non mi hai ancora aggiornato Eh ho trovato solo una batteria E l'ho messa nell'auto Ok Ok Allora mi servirebbe andare Nella casa dove ci sei tu Però è una noia Perché siete tutti là Eh c'è un sacco di gente Qui c'è un sacco di gente Cambio posto Che ti devo dire Cambio Allora C'è questa signorina Che sta cercando In tutti i modi Di scappare Ma io È certo che ci prova La sto raggiungendo E mo che fai Non riesci a chiudere In tempo la porta Non ce la fai cara Eh ti ho preso Eh sì E ti ho preso Ti ho preso Andata male Mi spiace Arri Ma dove sei Stef Sei in questa zona davvero Aspetta Che cosa stai combinando Vabbè Cos'è successo Dimmi 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 Io avevo preso Statizia La stavo Per giustiziare Fare fuori Mi sembra giusto È diventato un manichino Come un manichino Sì guarda Vedi che è un manichino Vedi Però io non l'ho uccisa Non ho mai visto bug del genere Non c'entro nulla Quindi non lo so Credo abbia arrivato Per non farsi ammazzare Della serie Anche secondo me Perché ho visto in alto In alto a destra Che qualcuno Della serie Non voglio vedermi la scena Eh esatto Quindi arrangiatevi tu Vabbè Vabbè Ok Ok Grazie Me ne ricorderò Comunque fuori uno Dai Vediamola in questo modo Non proprio fuori però Anzi fuori a tutti gli occhi Fuori dalla partita Fuori in tutti i sensi Comunque qua dentro C'è ancora qualcuno Quindi inizio a sondare Tutte le finestre Così se vuole scappare Si farà del male E dopodiché Sondo una porticina Meno due Ok Una signorina Ha deciso di affrontarmi Uno contro uno Proprio a campo aperto Sono coraggiosi Ci stanno Sì sì Super coraggiosa Allora vado qui Che ho visto che c'è qualcuno In questa bella casetta Buongiorno 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 In questa Sì perfetto Iniziamo a sondare Questa bella finestrina Scusate potete uscire E non farmi perdere tempo Ogni volta Perché questa finestra No Cosa Cosa ha urlato Ho sentito fino a qui Cosa ha urlato Ma sai che è quella di prima Ma cosa mi ha fatto Però mica l'ho capito Però quella di prima Che mi ha diciamo Preso in giro Eccetera eccetera E' ancora lì Che mi provoca In tutti i modi possibili Sì fa bene Ma che fa bene Guarda Fa bene Te lo meriti Ma cosa vuoi fare amico Arrivederci Sei il cattivo oggi Steph Sei tu il cattivo Ok questo l'ho ferito tantissimo E sta cercando di scappare Però non si regge più in piedi Non si regge più in piedi Sta soltanto perdendo tempo Nel caso sarà già il terzo E rimarrete soltanto in quattro Fede Quindi Stai iniziando ad avere poco tempo Perché secondo me Certi pezzi Ce li hanno altre persone Ma io giustamente Non posso vedere Se qualcuno ha trovato Metti la panica Parlaci Fede Chiacchiera con loro Chiacchiera in russo Non voglio Vai Non ti piace? No non mi piace Oh povera Magari capito Non mi capisco Non succedono cose strane Ma che cose strane Ma guarda Come si comportano sempre Preferisco farli morire tutti Guarda Ecco qua Devi sopravvivere insieme agli altri Gli altri giocatori No no Non mi stanno per niente simpatici Guarda Uuu Ti ho preso bello Sì sì Ti ho preso in pieno Ti ho ferito anche a te Con chi c'erai? Con un tizio che prima Mi ha tirato i petardi L'ho ritrovato Adesso mi ha tirato un flare E vabbè ovvio ovvio Ma sei tu? No Ah ok perfetto Allora Ma cos'è quella Che mi prende sempre in giro? Dimelo adesso Come on Jason Vediamo cosa succede Aia Aia però E mi ha dato un colpo Però anche io Gli ho dato uno per uno Ci sta Ci sta E adesso te l'ho dato io E anche adesso E mi sa che ti si arreda Vero? E ci sta No non sa più che fare Ti stai divertendo da Jason Non è divertente? No perché questa qua È quella che mi ha provocato Mi ha rotto le scatole In tutti i modi Lo so lo si dice ogni tuoi minuti Lo so Steph Lo so Guarda che mi ha fatto Lo so che ti sei offeso Sì Ha esagerato Io non lo faccio mai Lo so Cosa succede? L'ho acchiappata Era però nato Ma povero E mi ha segnato proprio tanto Tommy Era Tommy vero? Appena uscito dalla spiaggia Stava correndo dritto per dito L'ho acchiappato al volo Ma povero però che tristezza Ah sono rinato Ah sono rimuoto Ma almeno dovevi dargli capito Un pochettino di No 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 Di felicità Ogni secondo che passa È la possibilità per te di fuggire Mi dà che ne ho ucciso tre Ma in realtà sono quattro Perché c'è quello che se n'era andato Se n'è andato esatto Ne vedo uno davanti a me Feritissimo Che dovrebbe essere Una preda molto facile Io perché non trovo mai nulla? Che stress questo gioco Steph Dov'è? Ok è entrato in questa casa Ok è qua fuori Ah lui non sa che ci sono Corro piano piano dietro di lui E quando meno se l'aspetta Tipo adesso Ma Dov'è? Che succede? Ma Ma Eh non capisco dov'è Era lì ferito Dannazione Vabbè lo inseguo Lo inseguo Si vede che è stanco Sta correndo da tanto tempo Quindi faccio una maratona Con questo tizio Uff Ferit manca poco tempo Ma quello si è anche curato? Ma porca miseria Ok Mi è mancato Allora in questi casi Non posso acchiappare Devo proprio Combattere così Un colpo Schivo Un colpo Tutti e due Schivo Feritissimo uno contro due E li ho fatti fuggire Miseramente Mi volevano combattere Ed è andata malissimo Per loro Peccato che non ci possano essere due Jason Avrei preferito giocare con te Piuttosto che con questi Che non sanno giocare Disgraziato Eh ma adesso si che sei ferito Eh Ok Ok Mi hai tolto addirittura la maschera Mi hai tolto il cappuccetto Di cui ero tanto fiero Non sono più Jason cappuccetto Ma sono solo Jason E ho i capelli bruttissimi Ma davvero? Quindi adesso ti prendo Come ho fatto a togliertela? E ti faccio dimenticare Proprio qualunque cosa Della tua vita Addio Ok Adesso c'è anche l'altro Nasconditi in bagno Vai in bagno Vai in bagno Da bravo Dai non entrare lì Che non c'ho voglia Dai Non entrare Forse faccio in tempo L'hai preso? Sì Ok Allora Sentiva le urla 5 di 7 E sai chi c'è? No Steph io mi arrendo C'è solo una persona Sì sto per arrendermi C'è solo una persona Mi arrendo totalmente Perché questi sono degli scarsoni Qualcuno Perché io Allora praticamente ho messo La batteria nell'auto Ok Io ho visto che nella seconda auto È stata messa un'altra batteria Piolatica di benzina Quindi vuol dire che qualcuno di loro Ha le chiavi Perché io ho girato tutte Le accidenti di case Le chiavi non ce li ha più nessuno Ti garantisco Eh vabbè Però ce le aveva qualcuno Perché sei sola soletta Allora Mi sono nascosta Ti sei nascosta? Sì Quindi è una gara a trovarti adesso? Sì È un nascondino? Esatto È un nascondino Ok Perché sono profondamente arrabbiata E non ho trovato neanche il fusibile Cioè almeno io dico Se tu trovi il fusibile Vai ad aggiustare il telefono No? Ahà Che faccia stai facendo? Dove stai? È la faccia del ti devo trovare Perché Non credo che manchino troppi minuti Ci ho messo abbastanza a sistemare tutti Quindi Eh sì Ci ho messo parecchio Se io mi sconcentro adesso Rischio di farti vincere E non è accettabile Comunque guarda quanto sono brutto Fere Vuoi vedere? Sono proprio brutto eh Oh mamma mia Sei davvero brutto Oggi sei davvero brutto Ti sei svegliato un po' storto No vabbè Ho capito perché avevo un capucetto in testa diciamo Vabbè sì Cioè Chiunque si metterebbe un sacco in testa Al posto di testa Fere Allora Voglio un indizio Allora Sempre un nascondino di Gmod Dannazione No sì Sono profondamente offesa Perché io ci tenevo Almeno a provare una fuga Certo Certo Lo capisco Invece questi qua Prendono gli oggetti E poi muoiono E vanno a morire Cioè almeno lasciali lì Se tu vuoi andare a combattere Non so che indizi darti Perché io stavo gironzolando Ma sei all'interno o all'esterno Mi basta questo Quindi sei all'interno di una casa Dentro una casa sì Ti dicevo Lì stavo gironzolando Alla ricerca di oggetti Poi tu mi hai detto Manchi solo tu Il primo nascondino che ho trovato Mi sono infilato Finito Ho capito La mia triste storia Guarda A confermare il fatto Che la scorsa volta Abbiamo avuto una sfiga incredibile Ecco perché poi infatti Sono curiosa anche di quello Adesso io sono nascosta Mi vedi? No Mi stai inchiusando i sensi? Io sento rumori Ho sentito gente camminare Ma non c'era nessuno Ok Vabbè Un po' di allucinazioni Ti dicevo adesso Anche usando i sensi Tu riesci a capire qualcosa No Zero Zero Neanche il minimo indizio E allora vedi che io te l'ho detto L'altra volta Quel Gesù Stava giocando a rompere tutti i letti Che non lo fa Ma nessuno ha fatto lui Capito? Guarda tipo adesso sono dentro questo posto Con i sensi Nessun letto mi viene segnato E non so È stata solo sfortuna Però se ci sei Quindi sì La scorsa volta è stata praticamente solo sfortuna Sì perché effettivamente non sai se ci sono Dovresti provare letto dopo letto Esatto Ah Però aspetta Dimmi Questa volta mi Cioè mi sta segnando In che casa sei Ah Almeno la casa da dice però Però credo che sia una percentuale di possibilità Non una garanzia Vedi perché mi dice Che questa casa è rossa Quindi la mia cara Fede È nascosta qui da qualche parte Ma io non Cioè non sono sicura Che tu sia nella mia stessa casa Mi vedevi? No Sono lì dentro Ok Sinceramente volevo controllare l'armadio E invece c'è lì dentro Ma non ti sentivo Che strano Non ti ho sentito entrare Sentoci un bel like E sempre una volta che Nel video di questo video Potete considerare Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao